Buonasera, stasera vi presenterò questo libro Tristezze senza nome, è un testo molto particolare. Gli amanti delle parole, gli amanti appunto anche dei dizionari, di quella che è la scoperta di parole, anche nuove, potranno tuffarvi in questo libro e lo troveranno entusiasmante. Devo dire che prima dobbiamo fare una premessa, sicuramente il mondo, il nostro mondo, come sempre da quando esiste l'uomo, è costellato di parole, se pensiamo a tutte le parole che ogni giorno vengono in qualche modo emesse e comunicate, veicolate, sono infinite, proprio perché la parola è la casa dell'essere. La parola tristezza, partiamo anche da un punto di vista etimologico, ha una radice satis, latina, che vuol dire abbastanza, se pensiamo appunto anche alla parola inglese satisfaction, che in realtà vuol dire soddisfazione, felicità, pienezza, pensiamo in realtà, quindi ci rimanda a questa parola italiana, tristezza, a cui noi diamo un'accezione negativa, ma che in realtà poi non è così. Leggendo il libro non è un libro soltanto etimologico sull'analisi di una parola, la dirompenza di questo libro è soprattutto nell'autore di John Koenig di aver formulato parole nuove e sarebbe molto bello che ognuno di noi potesse nella propria vita dare delle nuove parole a delle emozioni che spesso vengono inserite in delle categorie fisse e prefissate, quindi quando noi avvertiamo per esempio un'emozione che non abbiamo mai vissuto, sarebbe molto bello poterla definire con una parola secondo un dizionario nostro e quello è l'intento del libro. Per esempio mi ha molto colpito nella parte finale quando lui fa riferimento, ha cercato di coniare, di dar vita a delle parole nuove, come per esempio ralleggere. Perché ralleggere? In realtà è una fusione di rallentare e leggere, perché quando non leggiamo un libro non vediamo l'ora di finirlo, magari a volte siamo assetati di conoscere la fine. In realtà però nel tempo stesso questa voracità della lettura a volte è anche intervallata da una lentezza, proprio perché vogliamo che questo libro non finisca mai e quindi lui ha coniato questa parola. Un'altra parola che mi ha colpito molto è quella di star six, sick, che è una parola inglese, la stanchezza delle stelle. Perché lui ha coniato questa parola? Perché oggi viviamo tutto in un mondo costellato appunto di mi piace, di like, quindi di approvazioni da parte degli altri. Quindi tutto ciò che noi vorremmo avere è sempre in qualche modo che le nostre azioni fossero caratterizzate dal piacimento degli altri, dal piacere degli altri attraverso le stelle. E invece sarebbe forse a volte bello anche che le nostre vite fossero più vuote, perché solo così potremmo capire attraverso questo vuoto la profondità e l'importanza di cose che in realtà ci sembrano così banali, scontate. Poi la parola che a mio avviso dovremmo tutti in qualche modo fare nostra perché tutti noi, quando ci è capitato di vedere la nostra vita il mare, è appunto Mareviglia. Racconta un episodio molto bello l'autore che è tratto dalle confessioni di un italiano di Polito Nevo quando appunto il protagonista a un certo punto si trova di fronte alla distesa del mare. E il mare è sempre stato, lo diceva anche Virginia Woolf, l'affermava anche questa potente scrittrice del Novecento, che il mare è un contrasto di onde furibonde ma anche di calma piatta e quindi diventa quello che lei chiamerà appunto il correlativo oggettivo, cioè il mare può rappresentare i giorni di burrasca ma anche i giorni di calma e di pace. E lo stesso ci dice il protagonista di Polito Nevo, cioè guardando il mare noi troviamo di fronte a noi il miracolo, la meraviglia, perché il mare ha un effetto maieutico nei nostri confronti, ci fa appartorire quelle che sono le nostre emozioni. Quindi unendo mare più meraviglia, l'autore con appunto questa nuova parola che è mareviglia. E tutti avremmo diritto, ci dice l'autore, a una nostra dose settimanale di meraviglia, perché la meraviglia è ovunque, a volte siamo talmente affettati e frettolosi che non ci rendiamo conto dove sta proprio questa belletta. molto bello è anche la parola per la vita, che lui mette tutto insieme, no? Quante volte abbiamo, e anche nelle nostre esistenze più comuni, ci sono delle cose che ci rappresentano e ci rappresenteranno per la vita, quelle che sono appunto i nostri imperativi categorici, quindi la bellezza dell'arte, l'affetto verso una persona, la nostra casa. E vorremmo che questi oggetti, queste realtà e queste emozioni fossero per sempre. E lui mette insieme la preposizione per con l'articolo là e con il sostantivo. Per la vita va scritto tutto insieme, proprio perché dentro c'è la parola perla. Quindi come vedete il linguaggio è qualcosa di plasmabile, lo possiamo rendere nostro, non facciamo che rimanga qualcosa di fisso e di rigido. Possiamo avere tutti noi un dizionario delle nostre emozioni e di quelle che sono anche le sensazioni più comuni, più quotidiane. Lasciamoci prendere anche dalla bellezza dell'arte e facciamo sì che anche leggere un libro in questo mondo dominato dal caos e dalla distrazione cognitiva, facciamo sì che leggere un libro sia invece un atto di equilibrio e che il libro rimanga sempre un bellissimo passaporto, perché in realtà avere libri e entrare anche in una libreria o in una biblioteca è sempre corrisponde a un viaggio. Quindi vi saluto invitandovi sempre a leggere e a far sì che i libri diventano sempre i nostri custodi preferiti. A presto, ciao!